Amo i frutti di mare e so che per sceglierli bene ci vuole occhio, ma anche orecchio. Vero o falso? Assolutamente vero. Una delle frontiere più importanti è riuscire a utilizzare tutti i sensi. È chiaro che in alcuni casi è possibile, in altri un po' meno. Nel caso dei frutti di mare, significa cozze, lupini, vongole e quant'altro ci viene in mente che viene donato dal mare sotto forma di mitili, è importante che il suono. Vederli è sicuramente una cosa importante, ma avere in questo caso la possibilità di sentire ciò che accade non è da poco. Il frutto di mare in effetti è formato da due valve più o meno resistenti che tendono a chiudersi in maniera tale da impedire da parte dell'esterno di sottrarre l'acqua e così permettere al mitile che sta all'interno di sopravvivere più a lungo. Uno dei modi più, come dire, facili da ricordare è chiudersi come un'ostrica. L'ostrica è uno dei frutti di mare dove effettivamente la chiusura è così forte che occorre avere una grande esperienza e un coltello. Quando noi compriamo i frutti di mare possiamo adottare varie tecniche, sicuramente dobbiamo sentire il profumo e quindi dal profumo capire se veramente stiamo parlando di un prodotto fresco. Ma in molti casi si vede che il commerciante tende a mettere i frutti di mare sul tavolo e a sentire il suono che fanno. Se sono vuoti come fossero delle nacchere, per intenderci spagnoli, significa che all'interno acqua non ce n'è più, si sono aperti, quindi il frutto di mare è definitivamente morto, si sono aperte leggermente le valve e tutta l'acqua che era contenuta all'interno è stata completamente persa. Non è un indice di freschezza, significa semplicemente che il prodotto sta da un bel po' di tempo. Ma anche la stessa cosa, prendere la retina di frutti di mare e verificarne il peso soppesandolo in maniera, come dire, manuale e rendiamoci conto che il volume non corrisponde a quanto ci aspettiamo, significa che all'interno c'è poca acqua. Se c'è poca acqua, anche in questo caso il frutto di mare è da molto tempo esposto e da troppo tempo chiaramente significa che la sua freschezza è un po' più lontana da quanto noi ci aspettiamo. Non solo questo, noi dobbiamo sentire, come abbiamo detto, gli odori, apprezzare la forza con cui questi frutti di mare riescono a essere ancora chiusi. Quindi, quando poi li portiamo a casa, ci renderemo conto se loro tendono a essere chiusi durante la cottura e poi aperti a vapore. Non ci dobbiamo fidare semplicemente dei frutti di mare perché sono belli o sono in qualche maniera stupendi da poter in qualche modo cucinare, ma dobbiamo rendercene conto attraverso i nostri sensi. Il olfatto è sicuramente importante, l'occhio è fondamentale e in questo caso diventa importante anche il suono. Ricordiamoci sempre di accertarci che la provenienza di questi frutti di mare arriva attraverso delle filiere controllate, con i cartellini. Non possiamo fidarci di acquistare soprattutto i frutti di mare da persone che non sono, come dire, tracciabili attraverso bancarelle o vendite così estemporanee perché i frutti di mare sono dei concentratori puri. Quindi, se vogliamo mangiare bene, scegliamoli bene. Se vogliamo stare bene, scegliamoli bene e soprattutto scegliamoli sicuri, quindi scegliendoli da qualcuno che può tracciarli.